Domenico Crescenzo, CEO e co-founder di Scrivo. Scrivo è l'assistente vocale che consente di controllare ogni software con la propria voce. Buonasera, sono Domenico Crescenzo, CEO e co-founder di Scrivo, l'assistente vocale che consente di controllare ogni software con la propria voce, senza nessuna integrazione necessaria. Noi siamo partiti da una domanda molto semplice. È possibile che le mani che ci hanno reso creatori da dieci anni a questa parte siano spese principalmente per imputare dati nei sistemi software? Abbiamo notato che nel mondo consumer qualcosa sta cambiando perché vediamo la voce che ci permette di effettuare transazioni digitali, senza digitare. Mentre invece nel mondo business è completamente diverso perché abbiamo schermate estremamente complesse che richiedono ore per essere apprese e ore per essere compilate in ogni campo. Quanto tempo? McKinsey, e anche la nostra esperienza, ci racconta di 800 ore all'anno che sono più di tre ore ogni giorno per ogni operatore impiegato o tecnico di industria. Ma come spendiamo queste tre ore? Tendenzialmente quando arriviamo al lavoro ogni operatore che cosa fa? Cerca di capire cosa deve fare, come farlo, dovrebbe farlo, dovrà dire che lo sta facendo e infine chiuderà il task. E per fare questo utilizza tra i tre e i sette sistemi software differenti. E così ci siamo chiesti, quanto sarebbe bello invece se le mani fossero libere da tastiera, pronte a generare valore, se gli occhi fossero lontani da schermi e avessimo la possibilità di focalizzarci sull'attività e sì raccogliere dati ma senza interrompersi. E siccome secondo noi sarebbe bellissimo, abbiamo creato Scrivo. Come dicevo, Scrivo è l'assistente vocale che consente di controllare ogni software con la propria voce. Quello che facciamo è costruire uno strato di automazione intorno ai sistemi software del cliente. Non è importante che sia web-based, OSAP o Excel, è lo stesso perché noi controlliamo mouse e tastiera con la voce, con la nostra app standard e un paio di cuffie Bluetooth che cambiano a seconda del livello di rumore dell'impianto. Siamo un SaaS con contratti che partono da 5.000 euro all'anno che dipendono dal numero di utenti, dal numero di applicazioni vocalizzate e chiaramente dall'hardware, spesso le cuffie che forniamo ai clienti. Il mercato di riferimento è il manifatturiero, in modo particolare siamo partiti nel manifatturiero italiano che stimiamo a 1.4 miliardi di aziende che investono in l'industria 4.0 e stiamo aggredendo questo mercato attraverso direct selling e attraverso la costruzione di una rete di partnership forti che ci permettono di lavorare con software vendors che vogliono importare la voce, hardware vendors che vogliono vendere la voce come plug-in sulle loro macchine e con i system integrator che portano la voce nei loro progetti. Abbiamo tavoli aperti con nomi importantissimi. Competitor's analysis abbiamo scelto due direttrici principali. La prima è quella del voice assistant e dello screen automation. Screen automation abbiamo dei player veramente importanti che però non nascono con la voce e lavorano su processi leggermente diversi. Per quanto riguarda invece il voice assistant il competitor più vicino a scrivo è certamente Neo che però nelle sue e nei suoi progetti non utilizza la robotic process automation il che significa che per implementare un progetto impiega più tempo, più complessità e chiaramente più costi rispetto a scrivo. Il team è un team molto solido. Io e Graziella ci occupiamo della parte di business development mentre abbiamo Nicola Tango che si occupa come CTO di un gruppo tecnico con competenze verticali molto specifiche nell'ambito della voice technology, della robotic process automation, chiaramente dell'artificial intelligence e dell'NLP. E ovviamente siccome il nostro target spesso sono corporate abbiamo bisogno di una struttura solida per quanto riguarda la parte di sicurezza e standard. Cosa abbiamo fatto da maggio del 2021? Abbiamo raccolto capitali in Italia e in Silicon Valley presso ovviamente il Venture Group e Boost VC abbiamo una pipeline value con nomi importantissimi di quasi 500.000 euro e ad oggi abbiamo chiuso il primo contratto con Tacheta Farmaceutici per un valore di 40.000 euro. Cosa faremo nei prossimi mesi? Vi ho raccontato dell'automazione, della capsula di automazione. Oggi quello che facciamo noi per ogni cliente è configurare questa capsula di automazione e ci mettiamo alcuni giorni. L'obiettivo è farlo fare direttamente al cliente in poche ore. Poche ore per un'autoconfigurazione dell'assistente vocale. Questo ci consentirà di aumentare le nostre revenue. E quello che stiamo facendo per i clienti, cioè l'enderli autonomi, lo stiamo facendo anche per i nostri partners, per dare a loro la possibilità di crearsi i loro voice plug-in. E questo ovviamente avrà a sua volta un impatto sulla revenue che prevediamo essere 900.000 euro entro dicembre 2022. Cosa chiediamo? Chiediamo un milione di euro di investimento che ci supporterà in questa roadmap di prodotto per andare a costruire questa piattaforma, per rendere clienti e partners autonomi per permettere di abilitare la voce su ogni software o su ogni device. Mani libere, ne parlavamo prima. Chiudo con un'immagine che non ha niente a che fare con l'industria, che però ci ricorda l'importanza delle mani e di generare valore. E di quanto sia un peccato che più di tre ore al giorno siano spese su tastiera. Digitale, ci piace dire, non implica digitare. Grazie mille.